Amici di YouTube ben trovati da Marco Liguori in questo video con grande dispiacere comunichiamo una notizia dell'ultimo minuto e appena scomparso un grande personaggio stiamo parlando di un personaggio che ha fatto la storia dell'imprenditoria italiana ed è stato un grande protagonista anche nel mondo del calcio a 76 anni e per cause ancora non rivelate è mancato l'imprenditore milanese Luigi Predeval che tra le altre cose è stato il fondatore della grande catena di distribuzione media world Luigi Predeval è stato un grande anche nel mondo del calcio è infatti stato l'amministratore delegato dell'Inter durante la presidenza Moratti nell'epoca in cui nell'Inter giocava Ronaldo il fenomeno e negli anni in cui i nerazzurri vinsero la coppa UEFA nella finale contro la Lazio al momento come detto le cause della morte di Luigi Predeval non sono state rivelate tuttavia il primo ai Marco Liguori si riserverà di comunicare ulteriori aggiornamenti su questa vicenda al momento facciamo le più sentite condoglianze alla famiglia del grande imprenditore milanese che ha lasciato un grande vuoto sia nel mondo del calcio che dell'imprenditoria amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video seguitemi anche sui canali youtube secondo la di Marco Liguori e Marco Liguori psicologia e crescita personale